Ciao, sono Angela e ti guiderò in questo viaggio mentale per incentivare la crescita dei tuoi capelli. Trova una posizione comoda su una poltrona, su un tappetino o sul letto. Chiudi le palpebre e rilassati. Concentrati sulla respirazione, lenta, profonda e completa. Inspira ed espira con calma naturalmente. Il tuo corpo è immobile. Se i tuoi capelli sono legati, scioglili delicatamente. Punta la tua attenzione sul tuo respiro naturale e profondo. Il respiro è la chiave per ritrovare il benessere di tutto il tuo corpo. Senti come ad ogni ispirazione l'ossigeno giunge a nutrire ogni cellula di te e ad ogni ispirazione butti fuori le tossine che ti impeniscono di star bene. Il tuo corpo è sempre più rilassato. Continua a respirare profondamente, lentamente. Immagina di dirigerti verso un ruscello rigoglioso. Intorno ad esso la vegetazione abbonda ed è di un verde molto intenso. Ammirala. Avvicinati e riempiti della potenza dell'acqua che scorre. Il tuo corpo è rilassato e allo stesso tempo energico. I tuoi capelli sono un ruscello, acqua pulita e nuova che scorre ininterrottamente. Cammina lungo il suo corso e arriva alla sorgente. Una cascata scende da una piccola caverna. L'acqua brilla colpita dalla luce del sole che si fa strada tra le foglie della vegetazione fitta. Specchiati nella pozza d'acqua sotto la cascata. Anche i tuoi capelli sono luminosi. Il sole è forte, ma l'aria è rinfrescata dal ruscello e dalle piante produttrici di abbondante ossigeno. Respira aria pulita. Riempiti di essa e svuotati da ogni peso. I tuoi capelli crescono. Sono più lunghi ogni volta che vieni in questo luogo di rigenerazione. Si rinnovano, ne nascono ancora. Il respiro rilassato e profondo regola la circolazione sanguigna e linfatica, migliorando ogni funzionalità del tuo organismo. Respira. Piano piano torna alla realtà e muovi le braccia verso l'alto, stiracchiandoti. Fai ancora un respiro profondo e ricordati di questo posto ogni volta che desideri stimolare la crescita dei capelli e ritrovare il benessere. Apri gli occhi e rialzati piano. Solo quando ti senti pronto o pronta. Lasciami un cuore nel commento se vuoi altri video di questo tipo. Alla prossima su Angela Biotrucco Salve,